Cari fratelli e sorelle, oggi condivido con voi un messaggio di profonda importanza e urgenza In quest'epoca di grande trasformazione e incertezza, ho il privilegio di condividere con voi un messaggio che mi è a Miriana, dalla Madonna di Mediugore, in una delle sue ultime apparizioni Questo messaggio riveste una significativa rilevanza spirituale e richiede la nostra attenzione e riflessione Ecco il messaggio La terra potrebbe essere colpita in un'ora, perché il potente Signore è capace di tutto istantaneamente, ma non preoccupatevi di ciò Il mondo cambierà, la Chiesa sarà rinnovata e ogni individuo sperimenterà un cambiamento Sarà un giudizio distruttivo sulle città e le nazioni Flagelli come morte, lutto e fame si diffonderanno rapidamente Il mondo sarà consumato dal fuoco, poiché il Signore Dio non lascerà nulla Siate attenti ai segni nel cielo, perché il giudizio è imminente La violenza e la perversione si diffondono sulla terra Le guerre e le rivoluzioni causano dolore, ma nulla è peggiore della violenza sui bambini Il giudizio arriverà improvvisamente, portando distruzione e caos Non ci sarà fuga Dio abbasserà le città e gli abitanti saranno annientati L'economia crollerà e le ricchezze perderanno valore In un attimo, tutto sarà distrutto Ogni traccia di gioia svanirà Quest'ora di devastazione cambierà tutto, senza risparmiare nulla Sarà un momento di distruzione e oscurità In mezzo a questo scuotimento, si udrà un canto che crescerà sempre più forte Il panico regnerà ovunque Lo scopo della vostra vita sarà trasformato e sarete giudicati allo stesso modo Accadrà in un'ora prestabilita Pentitevi e siate pronti, perché il Signore Dio possa avere pietà di voi Vi benedico tutti Pace a voi, miei cari figli Cosa ne pensi di questo messaggio? Lo avevi già sentito? Faccelo sapere nei commenti